Mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito, perché è una lingua che avendo il cuore resta sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Unpanì è una cooperativa sociale di tipo B, con sede qui in Alessandria. Ci occupiamo di inserimenti lavorativi di soggetti che provengono da quelle che vengono considerate rassiche categorie svantaggiate, soggetti con handicap fisico-psichico detenuti in carcere o messi in affidamento in prova e soggetti con tossico e alcoledipendenza. Il nostro impegno è inserire al lavoro persone provenienti da queste categorie. Attualmente lavoriamo molto con le carceri. In realtà storicamente credo che siamo stati la prima cooperativa di Alessandria ad inserire soggetti provenienti dal mondo del carcere. Negli ultimi anni però abbiamo anche sviluppato progetti molto interessanti con le disabilità. La cooperativa poi si occupa anche di altri servizi, di quella parte dell'accoglienza di migranti. La ristorazione sociale nasce nel dicembre del 2010 ed è a tutti gli effetti un ristorante. Vuole offrire la possibilità a tutti di consumare un pasto decoroso a un prezzo accessibile. contemporaneamente inserendo al lavoro persone appartenenti alle nostre categorie di riferimento e il prezzo in più è che la ristorazione si pone sempre come un contenitore da poter utilizzare. Promuove iniziative ma in realtà molto poche rispetto a quelle che invece promuove il territorio dentro la ristorazione e questo per noi è un legame meraviglioso con il territorio. Sparendo questa vocazione sociale molto forte, da un po' di tempo a questa parte ci siamo interessati al problema dei migranti, l'ambito dentro il quale noi abbiamo cercato una specificità maggiore che è quella delle donne di Teneritata. Quindi abbiamo incominciato a farci un po' di esperienza su questo tipo di problema e ultimamente il nostro territorio, Alessandria, ha attratto diverse ragazze anche molto giovani che arrivavano su questo territorio un po' in fuga da altre città e un po' alla ricerca di aiuto. Abbiamo aderito e partecipato al progetto regionale Anello Forte che è il progetto regionale della rete antitratta. Un altro specifico all'interno di questo progetto che è molto ampio è quello di gestire un appartamento di accoglienza, di reinserimento per donne che aderiscono ai progetti di tutela per le donne vittime di tratta. Io faccio il mediatore coltore del comune di Alessandria da tanto tempo. Con la company lavoro dal 2011 per dare anche io il mio contributo nell'ambito dell'integrazione sociale per gli immigrati. Sono in company dal dicembre 2011, gestisco i cantieri di pulizie in Alessandria, provincia. Lavorano con, nel tuo settore, ragazzi disabili? Disabili, sì, e con gradi di invalidità o delle problematiche fisiche importanti. Io lavoro in company da settembre 2017. Sono stata assunta col ruolo di operatrice socioculturale. Mi occupo anche di progettazione. Company sicuramente è una realtà che rappresenta molto i miei valori e in cui ho trovato veramente un ambiente molto ricco e vivo anche per, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della progettazione. Io ho fatto questa scelta dopo tanti anni di conoscenza di questa cooperativa e di lavorare con loro, proprio perché ritengo che per molti aspetti esprima molta innovazione. La company ha avuto un po' questa parte nella sua mission di non discriminare. Questa cosa mi è piaciuta molto in company, per questo ho deciso poi di continuare il mio lavoro. A livello lavorativo la cosa secondo me più bella è che comunque hai libertà. Quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai Quest'Italia che cambia siamo noi